buongiorno a tutti amici e bentornati in questo nuovo video io sono francesca oggi prepariamo insieme gli arancini alla siciliana detti anche arancine ma non perdiamoci in questa diatriba linguistica e concentriamoci sulla ricetta che davvero favolosa iniziamo preparando il ragù che può essere preparato anche il giorno prima tritiamo al coltello mezza cipolla nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al mio canale youtube di lasciare un bel like a questo video per sostenerlo e se vi va mi trovate anche su instagram vi lascio tutti i link di riferimento qua giù nel box informazioni tritiamo sempre al coltello anche un pezzetto di sedano e una carota soffriggiamo sedano cipolla con 3 4 cucchiai di olio extravergine aggiungiamo il sale e dopo qualche minuto quando la cipolla sarà appassita aggiungiamo anche la carota mezzo chilo di carne macinata di bovino e sfumiamo con un bicchiere di vino rosso diamo un bel sapore aromatico con il rosmarino fresco il pepe nero e un litro e mezzo di passata di pomodoro un bel bicchiere di acqua e lasciamo cuocere per un paio d'ore fino a che il ragù sarà bello concentrato e ristretto nel frattempo prepariamo i piselli quindi soffriggiamo mezza cipolla tritata aggiungiamo 400 grammi di piselli aggiustiamo di sale e aggiungiamo due bicchieri di acqua lasciamo cuocere per una mezz'oretta anche i piselli possono essere preparati il giorno prima prepariamo il riso prendiamo una pentola aggiungiamo due litri di acqua 900 grammi di riso adatto per gli arancini il sale e facciamo cuocere per circa 14 15 minuti se vi piace potete aggiungere anche delle foglie di lauro adesso inseriamo lo zafferano in circa due cucchiai di acqua di cottura del riso lo sciogliamo e lo aggiungiamo al riso preferisco sempre aggiungerlo a fine cottura uniamo 50 grammi di burro pepe nero un pizzico di noce moscata diamo una bella mescolata e aggiungiamo 100 grammi di parmigiano grattugiato per quanto riguarda l'impanatura ci andiamo a preparare la lega fatta di farina e acqua che io faccio sempre a occhio all'incirca 400 grammi di acqua e la metà o poco meno di farina aggiungiamo anche sale pepe nero e sciogliamo bene i grumi utilizzando una frusta mettiamo da parte in un'altra ciotolina ci aggiungiamo un po di ragù un po di piselli e mescoliamo se dovesse avanzare un po di ragù o un po di piselli possiamo magari farci una bella pasta il giorno dopo o conservare in frigorifero o congelare per realizzare i nostri arancini guardate utilizzo questo attrezzino per formare gli arancini che ci permetterà di preparare in pochissimo tempo lo ungiamo con un goccino d'olio aggiungiamo il riso e con lo stantuffo andiamo a creare il foro che andrà a raccogliere il nostro ripieno aggiungiamo due cucchiaini di ragù con i piselli la scamorza ancora un pochino di sugo e pronti per la chiusura non ci resta che capovolgere il nostro attrezzino scuoterlo leggermente e l'arancino fuori uscirà davvero in maniera molto semplice vi faccio vedere come prepararne un altro e dopo vi farò vedere anche come realizzarlo a mano questi attrezzi per fare gli arancini in modo veloce ormai potete trovarli davvero ovunque costano pochissimo anche meno di 10 euro quindi li potete trovare su internet o nei negozietti che vendono utensili per la casa quindi non sarà difficile trovarlo però davvero vi cambierà la vita se vi piacciono gli arancini perché in pochi minuti riuscirete a farne tantissimi e vola anche il secondo è pronto non vi preoccupate se resta un pochino aperto sotto perché poi con la lega di farina acqua e il pangrattato formerà una chiusura che davvero non si aprirà durante la cottura quindi state super tranquilli per farlo a mano preleviamo una parte di riso la compattiamo bene e la schiacciamo sul palmo della nostra mano quindi farciamo richiudiamo e se necessario aggiungiamo un altro pochino di riso per poterlo chiudere in questo modo compattiamo e scegliamo se dare una forma allungata per fare gli arancini oppure una forma rotonda per formare le arancine deriva da qui poi la differenza linguistica tra arancino e arancina proprio la sua forma una volta che abbiamo formato gli arancini con questa dose ne farete all'incirca 20 esattamente come quelli che sono chicchi a me li andiamo a bagnare nella nostra lega di acqua farina sale e pepe nero poi un bel tuffo nel pangrattato meglio se fatto in casa così resta più grossolano e sarà anche più croccante e quindi più buono e facciamo aderire molto bene se la ricetta vi sta piacendo lasciate un like e commentate bene una volta che avremo finito di impanare gli arancini possiamo pensare a friggerli oppure a cuocerli in forno come preferite naturalmente i fritti sono più buoni li lasciamo friggere in olio profondo per circa una decina di minuti finché assumeranno un bel colore dorato tipico degli arancini vi consiglio di utilizzare un olio di semi oppure di mais o di arachidi vi sconsiglio quello extravergine di oliva perché darebbe un sapore un pochino troppo forte lasciamo scolare su carta assorbente e voilà i nostri arancini sono finalmente pronti per essere gustati in compagnia di familiari o di amici se volete visto che la preparazione abbastanza lunga potete prepararli un pochino di più e congelarli già fritti così al momento dell'utilizzo basterà semplicemente farli scongelare e riscaldare in forno sono buonissimi spero che la ricetta vi sia piaciuta ricordate di lasciare un like e di condividere con gli amici ci vediamo la prossima videoricetta baci ciao ciao